Dopo avervi parlato dell'ultima stagione di Gomorra, di A casa tutti bene la serie, di Christian, eccomi pronto per recensire i primi due episodi di una nuova serie targata Sky Original dal titolo Il Re, diretta da Giuseppe Gagliardi. Su carta mi interessava molto questo progetto di voler raccontare una storia che si svolgesse all'interno di un carcere, il carcere San Michele, nome fittizio, e ho visto che le riprese si sono svolte tra Torino, Trieste, Civita Vecchia, però molto interessante il tutto ed infatti sarà che io apprezzo molto anche questo genere dove si raccontino storie di vita, storie di violenza. Ultimamente nelle sale è uscito Il Legionario, un film da cui mi sarei aspettato molto di più e che invece mi ha particolarmente deluso, ma che un po' come Acab, bellissimo film di Sollima, parlasse dell'abuso di potere, parlasse dei celerini, ecco che in questo caso parliamo sì delle guardie, delle guardie di questo carcere dove spicca un grande Luca Zingaretti nei panni di Bruno Testori che è il direttore di questo carcere, lui riesce ad essere una persona spietata con chi non rispetti le regole e allo stesso tempo una persona misericordiosa con chi si dimostra di avere un comportamento consono. E qui l'abuso di potere viene mostrato, ci sono accordi tra guardie e tra carcerati, ovviamente questa è una recensione spoiler, quindi nel caso non aveste visto le prime due puntate recuperatevele su Sky o su Now e poi tornate ad ascoltarmi, ma subito questa prigione, questa galera, questo carcere ci fa percepire un senso di oppressione, quasi come se stessimo vedendo un episodio di una serie dove ci sono gli spettri a spaventarci, perché alla fine si parla di morti uccisi che si sono suicidati, questo dobbiamo scoprirlo, però la loro presenza è fissa, è perenne, anche se il comandante interpretato da Giorgio Colangeli muore dopo nemmeno dieci minuti, percepiamo che la sua presenza quasi spettrale sia sempre presente, anche perché era il migliore amico di Bruno Testori e lui vuole scoprire perché la stessa persona con cui dieci minuti prima parlava tranquillamente sia stata ritrovata il giorno successivo spiaccicato in terra nel cortile del carcere, ma soprattutto attraverso delle investigazioni, poi abbiamo il commissario interpretato da Anna Bonaiuto, la nostra Laura Lombardo, che forse capisce che sia stato spinto dal tetto, non si tratti di suicidio, chi possa essere stato qualcuno che voleva scappare? Ecco che faremo la conoscenza di Lakovic, interpretato da Ivan Franek, questo serbo musulmano che ha perso il figlio, che ormai è in carcere per problemi dediti alla droga, che ha un accordo con il nostro Bruno Testori, perché le risposte piano piano già in questi primi due episodi, due episodi ce le danno, ha un accordo. Il carcerato deve sicuramente informare il nostro direttore di ciò che accade all'interno del carcere, deve essere la sua spia e allo stesso tempo per ringraziarlo per queste preziose informazioni. Il nostro Lakovic può spacciare, può spacciare liberamente nel carcere. Lì subito capiamo questa doppia faccia di Bruno Testori, che può essere un padre amorevole, alla figlia anche con dei problemi di salute, un padre che sembra quasi in dei momenti assurdo che possa andare incontro alla violenza e invece in altri ci rendiamo conto che sappia essere davvero spietato. Ma già una persona, violenza o no, che fa un accordo con un carcerato, tu mi riveli delle informazioni e intanto puoi spacciare liberamente, beh, per poi scoprire piano piano che in realtà forse possa essere proprio Lakovic il responsabile che abbia potuto uccidere il nostro comandante perché il comandante si è reso conto che lui stesse per scappare e quindi l'ha spinto giù. La prima puntata finisce con un altro colpo di scena e cioè che ritrovano impiccato il nostro serbo, il nostro carcerato e quindi ora cosa è successo? Chi lo ha fatto uscire di scena? Chi lo ha ucciso? Si è suicidato? Anche qua se le prove portano a Lakovic per quanto riguarda l'uccisione del comandante perché il DNA corrisponde, l'impronta del piede sul muro corrisponde. Qua cosa è successo? La serie piano piano ci rivela piccole informazioni, sono molto interessanti questi dialoghi, sempre molto non didascalici che lasciano intuire più che esplicitare una determinata cosa qualsiasi sia quella che si voglia raccontare. Te la lascia percepire, ti suggerisce questo dialogo sempre serrato, ciò che i protagonisti potrebbero aver fatto, i non detti, anche l'incomunicabilità fra alcuni personaggi, è tutto molto a intuizione e devo dire che sia una delle caratteristiche che più ho apprezzato in questa serie dove non si deve andare incontro a situazioni dove il didascalismo prenda il sopravvento, dove si debba spiegare il perché siano state fatte certe cose. Basti pensare al finale della seconda puntata in cui si scopre che sia stato proprio Bruno, il padre amorevole che sa essere misericordioso, ad uccidere Lakovic di cui si fidava ma dopo aver scoperto che non aveva buttato via la droga, che è stato lui ad uccidere il comandante, beh allora lo picchia, lo picchia a morte per poi far sì che per tutti fosse un suicidio, che Lakovic si fosse impiccato. Quindi devo dire che è una serie che subito nelle prime due puntate, ripeto su otto, lascia delle informazioni, fa percepire quanto il tutto parta da un omicidio fatto passare per suicidio ma che poi il tutto possa svilupparsi in situazioni in cui abbiamo il nostro direttore contro il commissario perché il personaggio di Laura Lombardo è un personaggio molto intelligente, acuto, perspicace e già ha capito grazie anche ai suoi colleghi che Lakovic fosse un informatore che guadagnasse migliaia di euro al mese perché aveva un patto con Bruno Testori. Quindi io immagino proprio che la serie voglia concentrarsi anche su questa lotta non solo fisica tra carcerieri e carcerati ma una lotta mentale, psicologica tra commissario e le guardie. Quindi comunque tra coloro che dovrebbero proteggerci una guerra psicologica tra loro che porterà senz'altro a un rovescio della medaglia, a scoperchiare determinati segreti. Vediamo cosa accadrà, posso solo dire che l'atmosfera così spettrale, posso dire che questo senso di oppressione vedendo questo carcere, il carcere di San Michele con le acque che lo delineano, che lo fanno sembrare quasi uno di quei carceri di massima sicurezza alla fuga da Alcatraz o alla Shutter Island, un manicomio criminale di Martin Scorsese, grandissimo film. Ecco, mi ha ricordato molto il classico carcere da film dove qualcuno può tentare di scappare, si deve gettare nelle acque, chissà cosa potrà accadere nelle prossime puntate. Mi dà l'idea questa serie di essere molto psicologica, mi piace a livello fotografico, mi piace la narrazione, mi piacciono gli attori scelti, Luca Zingaretti, Isabella Ragonese, Isabella Ragonese che interpreta questa l'unica donna agente della polizia penitenziaria al San Michele, la nostra Anna Bonaiuto che è il commissario, c'è Barbara Bobulova che interpreta l'ex moglie di Bruno che ora ha una relazione con il dottore della figlia, capiamo che la figlia abbia un problema di salute, il tutto ci verrà raccontato, però queste prime due puntate devo dire che siano state convincenti, si prendono il loro tempo per rivelarci pian piano delle informazioni ma rilevanti anche per quello che potrebbe essere lo sviluppo di questa storia, devo dire che sono soddisfatto da queste due buone prime puntate in cui si raccontano dinamiche carcerarie, in cui si racconta, si parla dell'abuso di potere, ahimè vedendo queste serie ci vengono in mente tante cose accadute nella realtà perché magari fosse solo finzione cinematografica, fosse solo finzione di sceneggiatura, ahimè queste cose che vediamo nella serie accadono molto spesso anche nella vita, chi ci protegge da coloro che dovrebbero proteggerci e quindi anche questo volto doppio di Bruno Testori che possa essere il bene ma allo stesso tempo possa essere il male che poi tira nel naso strisce di cocaina mi ha fatto riflettere, è un personaggio che può essere molto sfaccettato, è un personaggio che può essere ben analizzato, si può sviscerare a fondo con i suoi non detti, con questo senso di sempre oppressione che prova dentro, che non lo porta a dormire, questa incomunicabilità quasi con il resto del mondo se non con la figlia, forse con Adele con la figlia, lei è l'unica persona con cui riesce minimamente ad aprirsi perché con tutti gli altri ha segreti e quindi devo dire che questa serie dimostra nuovamente quanto sky, punti, pensi a prodotti interessanti, quanto riesca a produrli e a, che tra l'altro è prodotto anche da Luca Zingaretti insieme a Lorenzo Mieli, quanto riesca a credere in progetti molto interessanti come quelli che ho recensito fino a poco tempo fa e ora anche il re. Vediamo cosa accadrà successivamente però devo dire che sia a livello fotografico, registico, attoriale questa serie mi sta piacendo e vediamo dove potremo andare a parare anche con riferimenti alla realtà, vediamo questa lotta psicologica oltre che fisica dove ci possa portare. Un caro saluto ragazzi, io vi ricordo che nelle info trovereste tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, per abbonarvi al canale e che abbonandovi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. Un bacio.